E' stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Toscana una risoluzione d'iniziativa della Commissione Sanità, che impegna la Giunta ad implementare l'offerta di servizi psicologici nell'ambito del servizio sanitario regionale, anche tramite specifici progetti sperimentali. In particolare dovrà essere valutata la possibilità di attivare un servizio di sostegno psicologico rivolto agli adolescenti per fronteggiare meglio la loro fragilità emotiva provocata dal Covid-19. La Giunta dovrà inoltre attivarsi presso il Parlamento e il Governo per istituire quanto prima il servizio di psicologia nelle cure primarie. Siamo partiti da un'audizione del garante dell'infanzia e della dottoressa Gulino, che è il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, per farci dare e farci raccontare da loro con un po' di dati quella che è la situazione della nostra regione. In particolar modo per i ragazzi, per i minori, evidenziando come oltre il 70% nel periodo del lockdown ha sviluppato disturbi o disagi legati all'epidemia Covid, come oltre il 22% ha manifestato difficoltà legate al cibo, insomma tante forme di disagio, ovviamente in particolar modo per i minori, ma che poi riguardano tutta la popolazione. E allora siccome il compito del sistema sanitario è quello di prendere in carico a 360 gradi quello che è la salute dei cittadini, quindi il benessere dei cittadini, e sappiamo come la presa in carico psicologica riduca anche poi l'accesso e il consumo di prestazioni sanitarie e soprattutto il consumo anche di farmaci, noi diciamo che ormai, soprattutto in questa fase pandemica e dopo la fase pandemica per superare i danni derivanti, è necessario implementare i punti dove il cittadino può trovare una presa in carico del proprio stato di disagio psicologico. E chiediamo che quindi questo sia, c'è una proposta dell'Ordine dei Psicologi sulle case della salute, quindi sui servizi territoriali di psicologia, chiediamo che questo possa avvenire intanto come una forma di sperimentazione diffusa che poi possa essere estesa a tutta la Regione. Sono molto soddisfatto del fatto che il Consiglio regionale abbia accolto la nostra proposta, ringrazio il Presidente Sostegni, l'idea che si desse un servizio aggiuntivo ai ragazzi, ai bambini, ai preadolescenti, agli adolescenti da parte del servizio sanitario a livello locale è importante. Le aziende sanitarie dovranno implementare la loro offerta di servizi, lo dovranno fare la medicina generale, dovranno fare le case della salute, cioè il sistema sanitario a livello territoriale in termini di prevenzione deve dare un aiuto forte ai ragazzi. Molti adolescenti rinchiusi nelle loro abitazioni, costretti alla didattica a distanza, stanno vivendo sulla propria persona, un dramma, quello dell'isolamento che determina paure, che determina insicurezze, che allo stesso tempo può determinare delle situazioni che se non recuperate o accompagnate potrebbero essere nei prossimi mesi oggettivamente un limite alla loro giovinezza, alla loro socialità, alla loro relazione con gli altri. Quindi questo percorso va accompagnato, è senso di responsabilità assumersi questo elemento, non si tratta di una questione di carattere sanitario, si tratta di una questione di carattere sociale che in questo momento deve vedere il Consiglio regionale vicino alle famiglie, vicino ai ragazzi, ma però vogliamo vedere che questa risoluzione oggi approvata, ringrazio il Consiglio, venga poi attuata. Io monitorò in maniera costante il fatto che venga poi dato seguito a quanto oggi il Consiglio regionale ha chiesto di fare. Serve un servizio aggiuntivo, deve essere pubblico, può integrarsi e convenzionarsi con sistemi privati, c'è una grande professione all'esterno che deve accompagnare i ragazzi prima ancora che questa dimensione diventano questioni di carattere sanitario. E poi una risposta può essere data anche nei pronti soccorsi dove ci dicono che appunto gli accessi di molti adolescenti sono cresciuti per l'emergere anche di sintomatologie o di patologie nuove. Quindi una risposta importante che mi auguro di asseguito e sollievo a tanti ragazzi. Direi che è stata una risoluzione portata dalla terza commissione sanità, è stata recepita in Consiglio regionale e devo dire che abbiamo cercato di fare un atto che potesse tener conto anche delle esigenze dei medici perché la richiesta di uno psicologo di base e psicologo di cure primarie andrebbe a confliggere eventualmente con quella che è l'attività del medico. Per cui noi abbiamo specificato che pur essendo necessaria la figura dello psicologo in una maniera più importante debbono mettersi d'accordo i due ordini per poter non essere in conflittualità. Una mozione condivisa da tutto il Consiglio perché purtroppo, e dico purtroppo, arriva in un momento drammatico perché comunque arriva dopo un anno esatto dall'inizio del primo lockdown e come abbiamo detto e ripetuto tante volte, un po' tutti in questo anno, i minori, i più piccoli, i bambini sono stati sicuramente tra le fasce più colpite da questa situazione. L'età del presviluppo, l'età della preadolescenza, l'età in cui i bambini sviluppano non soltanto le capacità cognitive, l'avvio all'istruzione, alla scuola ma anche e soprattutto l'avvio alla socialità. Ed essere privati della socialità all'improvviso da un giorno all'altro è stato senza dubbio un trauma che ha portato a una maggiore richiesta di sostegno anche psicologico e quindi ben venga che la Regione vada incontro a questa necessità oggettiva della quale avremmo fatto ben volentieri a meno ma che è un dato di fatto che ci sta lasciando in eredità questa pandemia. È inevitabile ed è sotto gli occhi di tutti noi genitori che i ragazzi dopo un anno, ormai è un anno di chiusure e restrizioni, stanno soffrendo moltissimo per l'assenza di una socialità fisica reale con i loro compagni di scuola, con gli amici e questo li sta penalizzando molto. Io credo che sia non soltanto necessario ma doveroso per il sistema sanitario farsi carico anche di questo problema perché se da una parte dobbiamo cercare di tutelare il più possibile dal punto di vista della salute e quindi dall'evitare il contagio non possiamo però dall'altra parte non farci carico di quello che adesso è un disagio che in alcuni casi l'abbiamo visto con dei casi di cronaca sta diventando un vero allarme sociale. Stiamo tutti vedendo casi di giovani che si riuniscono anche in maniera poco attenta, poco accorta, addirittura alcune volte organizzano online risse oppure eventi vandalici nelle grandi città. Dobbiamo veramente tenere in considerazione la loro salute e non solo quella fisica. Abbiamo votato convintamente a questa nuova proposta di risoluzione che prevede un sostegno psicologico per le persone che in questo momento sono in difficoltà e dire persone in difficoltà significa non escludere nessuno perché tutti quanti noi siamo in estrema difficoltà, difficoltà economica, difficoltà di relazione, difficoltà di stare con gli altri. Pensate a quanto è grave il fatto che nessuno di noi si possa toccare, che nessuno di noi si possa abbracciare, che i nostri figli non possano dare un bacio ai propri nonni perché in quel bacio ci potrebbe essere la pericolosità di contagiare il nonno e quindi addirittura di perderlo e purtroppo in alcune famiglie è addirittura successo. Viviamo un momento dove l'aiuto, il supporto psicologico di una persona che è formata per contrastare anche elementi di grande criticità che in ognuno di noi si stanno creando è estremamente importante. Quello che deve fare la Regione Toscana è finanziare alcuni supporti psicologici e sfatare anche il mito che se vai dallo psicologo sei uno malato, se vai dallo psicologo sei uno che non si potrà mai più riprendere. Non è assolutamente vero. Ve lo dice uno che nella propria vita ha fatto un'esperienza di un percorso sia con lo psicologo che con lo psichiatra per un motivo mio, personale e quel percorso lì mi ha aiutato perché è un percorso che ti fa vincere alcune paure, perché è un percorso che ti sostiene e perché non bisogna vergognarsi nemmeno di dire che si va dallo psicologo perché andare dallo psicologo è come andare dal medico. Il medico ti prescrive una medicina, lo psicologo ti prescrive un percorso dell'anima e vi assicuro che quel percorso dell'anima può non soltanto salvare la tua vita, può salvare la vita degli altri, ti aiuta a vivere molto meglio. È un momento difficile per tutti noi, lo dicevo prima e soprattutto penso ai bambini. Quant'è difficile per i bambini affrontare per esempio la scuola con le mascherine, non poter andare a un giardino, non poter frequentare i propri coetanei, non poter avere una vita di relazioni con gli altri. Domandiamoci cosa rimarrà dopo il Covid. Rimarrà la paura per ognuno di noi di avere delle relazioni, rimarrà la paura per ognuno di noi di baciare l'altro o di toccare l'altro. Ecco, un supporto psicologico deve aiutarci a superare questa fase, che è una fase difficilissima di relazioni interpersonali, ma anche la paura del domani. Per questo ho votato convintamente a favore di questa proposta di risoluzione. È stata approvata all'unanimità una risoluzione d'iniziativa della Commissione Cultura che riguarda il rafforzamento delle attività di promozione della lettura nelle scuole e la possibilità di consentire le uscite didattiche per l'accesso ai musei del proprio territorio. Sulle orme delle iniziative regionali volte a favorire e sostenere la lettura e di tutti gli interventi specifici rivolti all'ampliamento del pubblico dei lettori, con particolare riferimento alla popolazione scolastica, la risoluzione va ad impegnare la Giunta regionale, per quanto di propria competenza, a rinforzare tali progetti per promuovere la lettura in classe tramite attività programmate di lettura comune e condivisione dei testi, in particolare sostenendo la diffusione della mezz'ora di lettura individuale all'inizio di ogni giorno di scuola, anche coinvolgendola, dove è possibile, le associazioni e gli operatori del settore presenti sul territorio. L'Aula ieri ha approvato una proposta di risoluzione importante e diciamo con misure strutturali, che invita a misure strutturali per stringere sempre di più il rapporto tra governo della cultura e proposta culturale del territorio e vita scolastica e attività didattica. Due settori di intervento, la lettura e la frequentazione dei luoghi e delle istituzioni museali e culturali in genere. Sulla lettura si propone e si impegna la Giunta a estendere e promuovere il progetto leggere forte, già attivo, che riguarda la lettura d'alta voce a bambini fin dall'età più piccola, perché è un progetto che è dimostrato scientificamente, favorisce lo sviluppo delle facoltà cognitive e poi si propone di introdurre analogamente a quanto accade in molti paesi del nord Europa, ad esempio, la mezz'ora di lettura silenziosa in avvio della giornata scolastica, questo per i ragazzi più grandi che sono in grado di condurre una lettura individuale e privata di loro libri. Questo per portare la lettura individuale ad avere cittadinanza piena nella pratica, nell'abitudine di comportamento della frequenza dello spazio scolastico, promuovendo in questo modo appunto la lettura in generale. La mozione poi aveva un contenuto riguardante lo svolgimento delle lezioni che hanno un contenuto più legato alla storia dell'arte, alla storia culturale dei territori, promuovendo, invitando le scuole a promuovere iniziative che facciano svolgere quelle lezioni in contesti diversi dalle aule, in musei, in teatri, in luoghi monumentali. Questo perché può consentire anche di affrontare meglio questo tempo di pandemia qualora per fortuna si potesse continuare ad avere la didattica in presenza e qualora disporre di spazi alternativi in cui appunto stare più distanziati e poter fare lezioni che hanno nel contesto maggiore fonte di ispirazione, secondo noi potrebbe essere un buon modo per fare meglio scuola, ma anche per affrontare meglio questo frangente difficile della scuola in tempo di pandemia. L'aula unanimemente ha approvato e quindi siamo stati molto soddisfatti del lavoro fatto in commissione. È stata una proposta che è partita da varie audizioni con persone che già avevano messo in atto il progetto Leggere Forte. È stata discussa in commissione, sono state apportate delle modifiche migliorative, tra cui quella che ha fatto la Presidente Giacchi di portare anche gli studenti nei musei a fare lezione, perlomeno di storia dell'arte. In più io avevo proposto ed è stato accettato di fare entrare nelle scuole associazioni, persone dello spettacolo, del territorio per poter dare un contributo proprio a Leggere Forte. Approvata maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana la proposta di delibera per la terza variazione del bilancio finanziario 2021-2023, con cui si prevedono finanziamenti per la festa dell'Europa, erogati 115 mila euro da suddividere in 15 mila nel 2021, 50 mila nel 2022 e 50 mila nel 2023. La festa è stata istituita attraverso una proposta di legge ed iniziativa della Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali, che ha visto come primo firmatario il Presidente della Commissione, Francesco Gazzetti, del PD. Il 9 maggio dunque la Toscana celebrerà questa ricorrenza. Si terranno nell'occasione varie iniziative, rivolte in primis al mondo della scuola e ai giovani, con l'obiettivo di favorire una diffusione della cultura europea. Noi abbiamo cercato con il lavoro dei commissari, di tutti i commissari della Commissione Europa, scusate il bisticcio di parole, di essere allineati e soprattutto aderire al mandato che ci è stato affidato. È una commissione che, come ben sapete, da speciale è diventata permanente. In questi primi mesi di lavoro sta portando avanti tutta una serie di attività, audizioni, presentazioni di atti e anche una legge, una legge che permetterà il 9 di maggio, da qui in avanti, di vedere anche in Toscana iniziative, momenti di riflessione per non tanto festeggiare ma riflettere sui temi connessi all'Europa e questo è frutto, lo voglio ricordare, lo faccio sempre, del lavoro dei commissari in seno alla Commissione Europa. Lo spunto ce l'aveva dato in una seduta il Presidente Stella, ci abbiamo lavorato, ringrazio il Presidente Marseo per la sua costante anche azione di collaborazione, tutti gli uffici e poi siamo riusciti con due votazioni di portare a casa anche questa legge. Permettetemi di sottolineare l'aspetto che spesso e volentieri la nostra comunità vede distante l'Europa, non abbiamo tante conoscenze di quelli che sono i diritti e i doveri che noi abbiamo nei confronti dell'Europa ma neanche quelli che l'Europa ha nei nostri confronti. Per cui credo che entrare in merito in una giornata di festa come conoscenza, come vicinanza, come proprio far sapere a tutti i nostri concittadini quelle che sono e quello che dovrà essere reciproco rispetto nel mondo del lavoro, degli investimenti, di quello che sarà poi il Recovery Fund, la Next Generation EU che verranno poi dopo distribuiti. Io credo che sia giusto che siano stati messi dei fondi a disposizione proprio per questo. Ma non mi fermerei soltanto lì perché all'interno della Commissione ci sono state delle proposte condivisibili come ad esempio portare nelle biblioteche la conoscenza dell'Europa, portare nelle scuole la conoscenza dell'Europa perché credo che sia fondamentale che le generazioni a venire, visto e considerato quello che sta succedendo in questo momento con un impegno economico dell'Europa nei nostri confronti ma anche un impegno nostro nei confronti dell'Europa, anche loro debbano essere messi a conoscenza.